Parliamo di The Flash. Finalmente abbiamo visto il film sul velocista scarlatto, è una decade, davvero dieci anni che il film è in produzione e finalmente è arrivato. Dico finalmente perché comunque un po' di attesa l'avevo, non è che avessi così che grandissimo hype, anche se l'unica parte di hype che sentivo era nei riguardi di Michael Keaton, di Batman, che è il Batman che mi ha cresciuto, quindi volevo assolutamente rivedere quel personaggio. Però in generale il personaggio di The Flash non è che mi faccia così schifo, anzi, l'opinione un po' impopolare è proprio il personaggio di Ezra Miller, quello di... il Flash di Ezra Miller, togliendo appunto tutta la faccenda Ezra Miller, Hawaii, sedie, alcol, roba varia. Ecco, a me il personaggio non è che facesse così schifo in entrambi Justice League. Adesso l'opinione che ho per Zack Snyder's Justice League è un po' cambiata con il tempo, la recensione che vedete sul canale è invecchiata malissimo, non guardatela, non tenetela di conto, però non credo che l'idea sul personaggio di The Flash sia cambiata con il tempo. Comunque, il video di oggi sarà molto breve in confronto al solito perché devo concentrarmi sull'essenziale sempre per esigenze di tempo, come per la recensione di Black Mirror, uscita anche oggi, sperando di pubblicare questo video il 16. E direi proprio per questo di iniziare subito a parlare del film. Magari come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. Prima di tutto, esperienza cinematografica. Ultimamente me ne stanno capitando di ogni, davvero, di tutti i colori. A questo giro davanti a me c'erano due persone, per non violare qualsivoglia tipo di privacy dirò semplicemente delle persone, esseri umani, esseri viventi, respiranti, credo, che in quel momento, per tutta la durata del film, pensavano che fosse più importante ascoltare audio, leggere messaggi su WhatsApp con la luminosità del telefono al 100%. Io ho un monito per queste persone, per quelle che appunto avevo davanti, ma anche per voi se siete in questa categoria di persone in sala, è un consiglio. Prendetelo come un consiglio, da amico a persona che sta guardando questo video, non so se siamo amici. Uscite dalla sala, andate in un'altra stanza, magari anche, non lo so, il bagno, proprio il bagno del cinema, va benissimo anche quello. Guardatevi allo specchio, guardatevi intensamente. Se volete facilitare la cosa, anche abbassate un po' la testa. E iniziate a dare delle testate fortissime al lavandino. Un intervallo di 10 ogni 3 secondi, fino a quando non vi sentite a posto. Ma adesso però parliamo del film. Generalmente mi è piaciuto, sono uno di quelli che reputa questo The Flash un film carino. Non è assolutamente il miglior cinecomic dei tempi del Cavaliero Oscuro, come era stato detto, anche da James Gunn, se non sbaglio, e... James, per favore, non tirare queste cavolate come Ezra Miller tira le serie, perché non è il momento. Non è assolutamente il miglior cinecomic dei tempi del Cavaliero Oscuro, non è neanche chissà che grandissimo cinecomic in generale. Sinceramente mi sarei aspettato molto di più, però ho un pensiero positivo. Io penso positivo perché son vivo finché io vivo. Ripeto che il personaggio di Ezra Miller, il personaggio di Flash e non di Ezra Miller, ci può stare. È un po' troppo stupido, effettivamente devo comunque ridare un'occhiata ai Justice League, perché avendoli visto da più piccolo, comunque qualche anno fa, probabilmente avevo una percezione differente e me ne sono accorto con questo The Flash. Sì, all'inizio soprattutto Barry è molto stupido, molto molto molto, anche un po' insopportabile. Ma quando inizia l'evoluzione sia del Barry adulto che del Barry più giovane, perché ce ne sono due, dai trailer si è visto, non è uno spoiler, lì è il momento che apprezzo di più. I personaggi in generale mi hanno convinto. Sì, Michael Keaton si vede che è spento, perché comunque è molto più vecchio, c'è da dirlo. Il suo Batman segue la stessa linea di età, anche lui, anche quel Batman, anche quel Bruce Wayne è vecchio, quindi ci può stare che sia un po' arrugginito, ma anzi mi aspettavo molto di più, mi sarebbe aspettato molto molto più incisione su questo fatto della vecchiaia. Invece sembra semplicemente esteticamente un po' più diverso. In poche parole stringendo rompe comunque i culi. Cosa che fa anche il personaggio di Supergirl, anche lei non è uno spoiler, si vede dai trailer, e sinceramente mi è piaciuto come personaggio. Non è che ci abbiano informato così tanto della sua storia, arriva e basta. Però c'è qualche linea di dialogo che dà quel senso al personaggio. Io sinceramente, dico veramente, vorrei che questa fosse la Supergirl del film che arriverà poi, non so quando, nel nuovo DCU. Sicuramente non sarà così, sarà la Supergirl standard, probabilmente quella bionda, però se dovessero tenere Sasha Calle, se non sbaglio si chiama così l'attrice, non mi dispiacerebbe affatto. Poi c'è il personaggio del generale Zod, che torna dai tempi di Men on Steel, dal 2013, e sì, qui gioca un ruolo abbastanza importante, possiamo dire, anche se era prevedibile quale ruolo avrebbe avuto il personaggio nel film, all'interno del sistema, dell'ecosistema del film. E così è stato, infatti ci sono state alcune cose abbastanza prevedibili che si sono anticipate già da alcuni trailer, da chi ha l'occhio attento comunque è riuscito ad anticipare alcune cose, e già sapevo tante di queste cose. Anche qui, essendo un film sul multiverso, che tra l'altro mi è piaciuto come un certo personaggio spiega il multiverso, finalmente c'è una spiegazione abbastanza lucida di quello che succede, ed ovviamente non c'entra nulla con Spider-Man across the Spider-Verse, o con in generale le mille spiegazioni che hanno dato all'interno dell'MCU, perché lì ne hanno date tantissime, tutte che non c'entravano l'una con l'altra. Qui per ora è solamente una la spiegazione, spero che continui ad essere quella. Anche il modo in cui è stata proprio esplicitata, chiaro, chiarissimo, non c'era forse modo migliore per poterlo spiegare a chi il multiverso non lo conosce al cinema, è abbastanza elementare, quindi a posto, anche perché permette di poter fare la qualunque, a tutti gli effetti, questa spiegazione del multiverso, quindi ok. Stavo dicendo però, appunto, essendo un film sul multiverso ci sono tantissimi cameo, i cameo però qui non sono buttati a caso, o meglio, sì, sono buttati a caso, totalmente buttati a caso, ma non giocano solo su quello, non giocano sui cameo. Non definisco quello di Michael Keaton o quello di Supergirl come cameo, perché non sono effettivi i ruoli, i ruoli principali del film, quindi forse è più un cameo quello di Ben Affleck, che interpreta Batman, anche lui si vede nei trailer, quindi non è spoiler, e mi dispiace che stia diventando un buon Batman solo adesso che ufficialmente non esiste più e non ci sarà più, però per quanto riguarda i cameo, appunto, è solo una piccola parte del film e non puntano su quello per tutta la durata, quindi puntano veramente solo sulla sceneggiatura, perché la trama è interessante, questo devo dirlo. Non è originalissima, anzi, mi stupisco di come anche James Gunn abbia detto che è una delle trame più originali che abbia mai letto o che abbia mai visto, perché in realtà il viaggio nel tempo, questa roba così, di combinare qualcosa nel passato è una cosa vista e rivista, però il modo in cui si conclude il tutto è qualcosa, qualche elemento che può essere presentato in modo diverso in confronto a, non lo so, anche Un Ritorno al Futuro, film che viene citato all'interno, potrebbe dare l'impressione di vedere qualcosa di originale, però non è che sia così tanto originale. Quindi, la trama mi è piaciuta. Andy Muschietti come regista non è che sia chissà che grande autore, però qualcosina di interessante l'ho notata anche nella scena iniziale d'azione. Le scene d'azione in generale sono ben realizzate, quella finale con i due Flash ci sta. Tra l'altro oggi hanno anche confermato, ufficialmente perché già era ufficiosa come notizia, che Andy Muschietti dirigerà anche The Brave and the Bold, il film su Batman del DCU, e vedendo come ha diretto Michael Keaton, un invecchiato Michael Keaton nel ruolo di Batman, ci sta, dai, sono curioso. Ripeto, non è un autore, è più un mestirante che fa bene il suo lavoro, quindi, ok. Il più grande problema di The Flash è sicuramente la CGI. La CGI è orribile, è una delle cose più brutte che abbia mai visto al cinema. Con il deepfake di uno dei due Barry Allen che traballava come se fosse fatto con un'applicazione scrausa del telefono, orribile. Personaggi che sono palesemente di plastica, in diverse scene all'interno di contesto sabbia, dico solo così, non entro nel dettaglio. Ecco, quando ci sono tante ripetizioni di certi personaggi, sono fatti di plastica, si vede, sono brutti. Non di plastica perché sono fatti con effetti speciali, quindi proprio roba materiale, ma perché sono fatti male, sembrano dei render della PS2, non lo so. Poi c'è anche qualche linea di dialogo imbarazzante verso l'inizio, c'è qualche scena terribile, posso dirlo tranquillamente, la scena dei bambini, dico solo questo, no. Sia per CGI, per montaggio, perché tutto in slow motion, pare che The Flash nel DCU abbia il potere dello slow motion, non nella velocità, perché anche questo film comunque dura probabilmente 2 ore e 20, perché 2 ore e mezza, 2 ore e 40, tra poco, 2 e 36 mi pare. Dura così tanto per lo slow motion, ci sono tantissime scene lente, rallentate perché, appunto devono farti vedere, Flash che corre, stranissimo perché fa così, vabbè però, ormai ci ho fatto il callo, però troppi slow motion, spero che nel nuovo DCU lo slow motion venga usato il meno possibile. Quello dello slow motion è un'eredità di Snyder, lo si nota anche dai suoi altri film, Army of the Dead, o proprio anche quelli del DC Extended Universe, lasciate Snyder il più lontano possibile. Nonostante secondo me ci siano stati alcuni riferimenti alla sua Snyder Cut in questo The Flash, e o non è canonico al 100%, o lo rendi canonico a questo punto, e speriamo che non sia canonico. Comunque, l'impressione che ho avuto generalmente è quella di un film che segue una linea abbastanza tranquilla, ci sono un po' di side quest al stile videogioco, anche se in realtà non sono side quest, ma sono delle missioni principali, però, capito, c'è l'idea di dover arrivare in un certo punto per fare una cosa, poi si ritorna, si cerca un certo materiale, un qualcosa per fare un'altra... Ecco, questo, sono scene che si seguono una dopo l'altra così, attaccate da questa cosa, il fatto che si debba fare sempre qualcosa in un altro posto. Non sto dicendo ai livelli di The Mandalorian, quello è proprio un videogioco fatto serie tv, ma siamo vicini, dai. Comunque, nonostante il film duri più di due ore e mezza, si segue abbastanza bene, a me il tempo è volato. Fa ridere, mi sono divertito, sia a livello di scene d'azione, mi sono divertito, ma anche proprio a livello comicità, a volte si andava un po' troppo in là, sia con la ripetizione di alcune gag, ma anche proprio con la concezione di alcune gag, il concept di alcune gag un po' troppo tirate fuori dal vaso, diciamo così, e il finale è abbastanza prevedibile, come ho già detto, per il colpo di scena maggiore, però il modo in cui si risolve la faccenda, ci può stare. Triste per alcune cose che sono state fatte vedere, ma poi ci si può ragionare un po' più su e la tristezza vola via. La post-credit abbastanza inutile, divertente, sì, quello è divertente, sicuramente una delle migliori scene del film, però non è che serva così tanto. Faccenda reboot di Sixth and the Universe. Allora, sembra che il film non è che sia veramente il reboot del Sixth and the Universe, da come finisce almeno, perché sappiamo già alcuni dettagli del nuovo DC Universe e non collima molto con quello che vediamo nel finale, quindi possibilmente l'hanno detto semplicemente per far andare a vedere il film in sala, non so quanto guadagnerà, io spero che comunque i suoi soldini se li porti a casa, perché per me, ripeto, è un film carino, nulla di che. Lo rivedrei probabilmente quando prenderò il Blu-ray, non lo so. Sicuramente un'altra occhietata gliela ridò, però non è sicuramente il miglior cinecomic, non è nemmeno così tanto bello, diciamo così. E ripeto, secondo me con il reboot del Sixth and the Universe non c'entra nulla. Ora, aspettiamo di vedere Blue Beetle, James Gunn ha detto in un podcast, non so per quale motivo continui a parlare così tanto, che Blue Beetle non è il primo film del DCU, ma è il primo personaggio del DCU, enigmatica come roba, totalmente senza senso in realtà, perché ha detto, sì, Blue Beetle è il primo personaggio del DCU, ma il primo film è Superman Legacy. Ok, quindi vuol dire che comunque ci sarà di nuovo Blue Beetle in qualche altro prodotto del DCU, o l'hai detto solo per far andare a vedere anche Blue Beetle, perché sai che sarà un flop forse anche più di Shazam. Shazam che, ripeto, per quanto mi riguarda è un guilty pleasure, perché riconosco ogni singolo problema di quel film, riconosco di essere stato anche troppo bravo con la recensione sul canale, però continuo a piacermi. Giuro che questa cosa non è voluta, ma sfortunatamente nel momento esatto in cui ho nominato la parola spoiler nel video, che per inciso io pensavo stessi continuando a registrare, l'audio che stavo registrando, secondo me, con il microfono si è staccato totalmente. E quindi rimarrebbe l'audio della videocamera, che non è assolutamente accettabile per un video di un video, di questo genere. Quindi voglio provare una nuova cosa. Dato che veramente, lo ripeto, non ho il tempo di rimettermi davanti la camera per registrare la parte spoiler di questa recensione, che ne direste se, appena ci sarà più tempo possibile, possibilmente dopo l'esame, perché è quello l'ostacolo che sto aspettando, che ne direste se rilasciassi un video completamente spoiler su The Flash? Magari, chi lo sa, potrebbe diventare la nuova formula di recensione sul canale, quindi un video senza spoiler, interamente senza spoiler, e poi una recensione spoiler, interamente con spoiler. Chi lo sa? Vedremo. Fatemi sapere con un commento perché ho bisogno di sapere. Fatemi sapere tutto, ragazzi. Io vi saluto, voiceovers, fortunatamente. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate voi con un commento di questo film. Se volete fare spoiler, mi raccomando, contrassegnate il commento con la dicitura spoiler, e poi scrivete il vostro messaggio. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Io sono la voce di Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao.